Benvenuti cari follower. Un forte terremoto ha colpito l'Italia nella tarda serata di martedì 7 novembre 2023, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche. Se la terra tremerà forte nel sud Italia questa sera, martedì, intorno alle 8 di sera. Secondo il centro sismologico europeo, il terremoto è avvenuto in Sicilia, precisamente a 29 chilometri da Messina, fortunatamente nel mar Tirreno, precisamente ad una profondità di 119 chilometri dalla superficie terrestre. Di conseguenza diminuì la forza di questo terremoto, che raggiunse circa i 3 gradi della scala Richter. Fortunatamente questo terremoto non causò alcun danno, e la scossa fu lieve perché avvenuta nelle profondità del mar Tirreno, come ho detto. Altre importanti novità, cercheremo di comunicarvele più avanti. Alla fine, possiate rimanere in buona salute.